Ed è tornata la chitarra di David Gilmour, questo è The Piper Call, singolo uscito il 25 aprile 2024, è un singolo che anticipa il quinto album in studio dall'ex chitarista dei Pink Floyd, Luck and Strange, in uscita il prossimo 6 settembre per Sony Music, sono già annunciate le date italiane, tutti al Circo Massimo a Roma, 27, 28, 29 settembre, poi 1, 2, 3 ottobre 2024. Ci facciamo dire che cosa ne pensa di questo nuovo singolo dal nostro ospite che è The Pink Floyd, ne sa sicuramente qualcosa, intanto benvenuto ad almeno due pagine al giorno ad Alessandro Besselva Averame, in collegamento con noi. Ciao Alessandro, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti, insomma tu mi chiedi a bruciapelo così un'impressione... No, intanto perché voglio dire, voglio esibire questo libro, perché qualche anno fa per Arcana editrice Alessandro Besselva Averame aveva curato e commentato i testi dei Pink Floyd, in questo Pink Floyd The Lunatic, per cui diciamo che di Pink Floyd e di singoli componenti dei Pink Floyd qualcosa ne sai di sicuro, ma intanto che ne dici di questo nuovo brano di David Gilmour? Ma devo dire innanzitutto che musicalmente a livello di voce non mi dispiace, non è ma... ci sono ovviamente le solite polemiche sul fatto che insomma Waters era un po' più l'autore, anche a livello soprattutto dei testi, Gilmour un po' meno. Diciamo che questa cosa un po' conferma questa, come si può dire, questa storia del fatto che Waters è quello che sa scrivere, soprattutto i testi e Waters meno, però devo dire che mi sembra un pezzo ben più che dignitoso, insomma, diciamo che non voglio entrare nella classica polemica, perché ovviamente mi è capitato di finire su pagine di fan club floydiani, e lì c'è continuamente questo litigio su Waters e Gilmour e tutto quanto, e io un po' mi chiamo fuori perché alla fine forse il mio Pink Floyd a cui sono più affezionato nel tempo è Nick Mason che se ne sta per i fatti suoi, ogni tanto si mette a suonare il repertorio più vecchio di Pink Floyd, se no se ne sta a casa a collezionare automobili d'epoca, insomma, ha un profilo un po' più basso e entra meno... Anche perché Alessandro, devo dire che è diventata un po' patetica anche questa, diciamo, di Atriba, che è più secondo me dei fan tra Waters e Gilmour. Assolutamente, perché i due, le parti in causa, insomma, ogni tanto c'è qualche frecciatina, ma per lo più fanno i fatti propri, ecco, si fanno i fatti propri. Si fanno i fatti propri, ma intanto, allora, intanto grazie, diciamo, per il tuo contributo a questo brano che è entrato nella nostra alta rotazione da pochissimo, insomma, credo proprio da ieri, se non sbaglio, per cui, insomma, mi faceva molto piacere subito partire con questo aggancio rispetto, diciamo, alla tua esperienza anche, diciamo, di Pink Floyd, però noi oggi siamo qui, in realtà, e abbiamo cambiato la nostra solita, diciamo, struttura di almeno due pagine al giorno perché vogliamo parlare e farci raccontare da Alessandro un libro che ha tradotto perché Alessandro, oltre ad essere coordinatore di redazione del mensile Rumore, che è uno strumento per noi fondamentale di racconto della cultura contemporanea, lo facciamo ogni due per tre, insomma, è verso la fine di questa chiacchierata, se tu sei d'accordo, Alessandro, vorrei tornare su un paio di cose, diciamo, degli ultimi due numeri, quantomeno. È stato anche Alessandro Besselva Verame uno dei redattori del Mucchio Selvaggio, pubblicato appunto per Arcana il libro Pink Floyd Lunatic, i testi commentati, ha scritto su diverse altre testate e traduce per Jimenez Edizioni, anche qui un editore che noi amiamo moltissimo per il suo catalogo, e ha pubblicato, ha tradotto, intanto ce li ho qui, li ho portati, proprio perché mi sembra molto bello anche poter esibire le copertine di questi bellissimi libri, ha tradotto nel tempo Non fare stronzate e non morire, un addio a Vic Chansnut di Christine Ersch, eccola qui, la copertina del libro, poi William Barrox e il culto del rock and roll di Casey Rye, e anche, questo è un altro libro che abbiamo amato moltissimo ultimamente, Musica e Storia di Quest Love, ne abbiamo parlato, se ricordate, qualche tempo fa. Siamo qui a parlare invece di Liberami dal Nulla, Bruce Springsteen in Nebraska, di Warren Zanes, ecco qui, sempre per Jimenez Edizioni. Intanto, partiamo da qui, questo è un libro che va a recuperare, Alessandro, un disco che è una sorta di spartiacque, se vogliamo, insomma potrebbe suonare anche retorico, per la carriera di Bruce Springsteen, ma che, come dire, stravolge, come dire, anche nei neofiti, diciamo l'immagine di Bruce Springsteen più mainstream, perché qui, come dire, abbiamo a che fare con un disco che racconta davvero il lato oscuro di Bruce Springsteen. Vogliamo partire da qui, insomma, intanto rispetto al racconto che Warren Zanes ne fa e che tu hai tradotto per Jimenez Edizioni. Alessandro? Sì, innanzitutto è appunto per questi motivi che hai detto, è anche uno dei, forse è l'unico disco di Springsteen che piace anche ai non springsteeniani, a quelli che non hai fan di Springsteen, perché tra l'altro io non sono un grandissimo appassionato di Springsteen, ma quando mi è stato chiesto se avessi voluto tradurre questo libro, insomma, gli ho dato un'occhiata e ho visto che c'era parecchia roba dentro, anche al di fuori, cioè è un libro che può interessare anche chi non è appassionato di Springsteen perché parte da questo album anomalo nella carriera di Springsteen che però, insomma, viene un po' fuori, non faccio troppi spoiler, ma in realtà sono cose note, è un po' una sorta, la chiave di lettura che ne dà Zanes, e insomma, innanzitutto è un disco molto personale che per la prima volta probabilmente affronta in maniera profonda i fantasmi di Springsteen, oltre a includere, diciamo, tutti i fantasmi dell'America dell'epoca, che è l'America reganiana dei primi anni Ottanta, e insomma, la chiave di lettura è un po', Springsteen in qualche modo ha bisogno di questo momento di intimità, di solitudine, per poi alla fine anche diventare lo Springsteen di Born in the USA, quindi, insomma, è anche una mossa molto accorta da parte sua, anche se sostanzialmente inconsapevole da molti punti di vista, insomma, lui prima di fare il salto definitivo nel mondo dello Stardom, dominare gli stadi, tra virgolette, ha bisogno di fare questo specie di passo indietro per schiarirsi le idee, e poi soprattutto c'è anche un elemento molto interessante, il fatto che per molti anni Springsteen non ha parlato di questa cosa, ma, insomma, adesso non entro nei dettagli perché non brucio... No, 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 ma assolutamente... Tra l'altro arriva, arriva, volevo soltanto, scusami se ti interrompo, arriva dopo, tra l'altro, The River e prima di Born in the USA, praticamente in mezzo a, diciamo, a due, diciamo, dischi straordinari, due bocche di fuoco vere e proprie dopo un tour pazzesco, quello di The River, per cui, insomma, evidentemente l'onda lunga, la risacca, diciamo, di quel successo devastante di The River, lo porta anche... perché qui parliamo anche di depressione, diciamo, viene fuori spesso, diciamo, questo elemento all'interno del racconto, diciamo, di Warren Zanes, no, Alessandro? Sì, anche perché poi Springsteen per molti anni ha taciuto su questa cosa, nel libro viene fuori chiaramente che intorno a tutto questo raccoglimento, a questo disco anomalo, c'è anche Springsteen che è in un momento di depressione, a tratti anche piuttosto dura e quindi ad un certo punto poi lui si deciderà, insomma, come in questi casi, a chiedere aiuto e poi diciamo che con Born in the USA insomma, incomincerà una seconda fase della sua carriera, insomma, questo disco serve anche per tirare fuori degli elementi rimossi, anche se è un disco che parla di situazioni, di storie altre rispetto alla sua, però ci finisce dentro molta della sua, del suo vissuto, soprattutto gli anni della preadolescenza, dell'adolescenza e tutto questo. E quindi è un disco che diciamo che lui ha anche la fortuna di essere circondato da discografici, manager che capiscono questa esigenza e tutto sommato lo assecondano perché sostanzialmente il rischio di fare un disco del genere è quello di avere un suicidio commerciale mentre sei all'apice se stai salendo in cima. Poi in realtà alla fine anche i fan di Springsteen hanno, se non capito il disco, ma sicuramente lo hanno supportato, per cui alla fine non è stato un bagno di sangue dal punto di vista discografico è andata bene, però era un grosso rischio quando è uscito. Allora, se tu sei d'accordo, lo dicevamo anche in apertura, abbiamo un po' stravolto la scaletta anche musicale oggi, cadenziamo il nostro, la nostra conversazione con qualche ascolto, se tu sei d'accordo ascolterei insomma Nebraska, quindi questo è Nebraska, il pezzo che dà il titolo al disco di Bruce Springsteen. E questa è Nebraska di Bruce Springsteen che apre il disco omonimo, un sito per CBS a settembre del 1982. Allora Alessandro, si citano quelle Badlands che chiamano in causa il cinema, la letteratura e insomma riferimenti culturali fondamentali per Bruce Springsteen, partendo proprio da una storia terrificante della fine degli anni 50, che coinvolge un tale Charles Starkweather. però voglio lasciarti la parola rispetto a questo racconto che affonda le mani dentro la cultura americana. Certo, assolutamente, innanzitutto il punto, la scintilla iniziale, come si spiega nel libro, è una visione notturna, insomma, a tarda notte in televisione, ma per caso, di Badlands che è l'esordio di Terence Malick al cinema, che poi in italiano è tradotto come La rabbia giovane, è un film con protagonisti Martin Sheen e Sissi Spese, che è il primo ruolo di Martin Sheen che poi lo porterà a dargli un po' di... a dargli grande credibilità e a portarlo poi a lavorare con Coppola in Apocalypse Now e via dicendo. è appunto dalla visione di questo film che parla, appunto, ricostruisce questi fatti, ovviamente in una versione molto autoriale, insomma, di Terence Malick, che gli dà, che dà Springsteen la spinta per raccontare questa storia, che poi appunto la vicenda di Starkweather è particolarmente interessante, perché Springsteen la racconta con la voce del protagonista, ecco, attraverso la voce del protagonista e questo è già un interessante cambio di prospettiva che dà al disco, insomma, uno spessore anche ulteriore, no? E quindi la visione di questo film nel famoso appartamento che Springsteen si è affittato nel periodo in cui poi lo stesso appartamento nel quale nella stanza da letto registerà l'album e questo poi è un aspetto... la registrazione proprio dell'album è un aspetto anche quello molto interessante, ma insomma ne parleremo fra poco, credo. Certo. E quindi l'aspetto interessante del libro appunto è che si allarga alle influenze del disco che sono in questo caso molto pregnanti, sono in questo caso la visione del film di Terence Malick che ha tutta una sua poetica anche, come si può dire, non finita. è un film molto poetico e anche per certi versi lo fai, tra virgolette, se possiamo utilizzare... Non è un film canonico, ecco. Anche poi Malick, insomma, diventerà un grandissimo del cinema, farà pochi film, ma tutti, molti significativi anche dal punto di vista visivo. e poi ad esempio si parla anche del fatto che in questo modo di raccontare c'è anche molto l'impronta di Flannery O'Connor che è questa scrittrice del sud degli Stati Uniti che proprio qualche tempo prima lui l'aveva conosciuta attraverso la moglie del suo manager che gli aveva prestato un libro di racconti e l'impronta di questi racconti molto secchi, molto asciutti, anche molto violenti e creuenti finirà comunque nel disco. Teniamola lì, allora, Flannery O'Connor la teniamo lì perché adesso aggiungiamo alla prima pausa, siamo all'infotraffico Muoversi in Piemonte e al GR di Popolare Network, tra poco saremo ancora in compagnia di Alessandro Besselvaverame. E questo è Stati Trooper di Bruce Springsteen da Nebraska, incredibile come senti vicino, insomma, sto ascoltando moltissimo in questo periodo questo disco e come lo senti davvero accanto a te. Tra poco con Alessandro Besselvaverame che è ancora in collegamento con noi, parleremo anche, diciamo, delle modalità di registrazione di questo disco. Stati Trooper, dicevo, all'interno di Nebraska, perché stiamo raccontando con Alessandro Besselvaverame questo libro, Liberami dal nulla, pubblicato da Jimenez Edizioni, scritto da Warren Zanes e tradotto da Alessandro. Il titolo è in realtà lo spunto dell'ultimo verso di una delle canzoni del disco, Open All Night, Deliver Me From Nowhere. Ci siamo lasciati, prima della pausa, Alessandro, sui racconti di Flannery O'Connor che sono uno spunto, diciamo, per la costruzione anche delle storie, diciamo, anche del vissuto, diciamo, di Bruce Springsteen dentro dei racconti che parlano di violenza, di assenza di giudizio nei confronti dei personaggi, anche di un interesse molto forte per ambienti rurali, per gli outsider, per esempio. E' un elemento che non abbandona forse più Bruce Springsteen, diciamo questo qua, questo collegamento culturale, se vogliamo, no Alessandro? Certo, no, nel senso che, se vogliamo, alla fine anche Born in the USA, la canzone rientra su queste direttrici, ecco. Tra l'altro la cosa interessante è che Born in the USA in realtà è già stata scritta per Nebraska, o meglio, Springsteen registra i demo su cassetta, e Born in the USA, diciamo che c'è una fase in cui Springsteen non sa di aver registrato un album, per cui ha queste canzoni e cerca di portarle in studio, di registrarle con la band. Born in the USA è una delle canzoni che viene incisa con la band e la versione che sentiamo, che è diventata famosa, il disco è uscito due anni dopo, è stata registrata comunque in questi, in questi, come si dice... In quella fase. In quella fase lì, e quello è un brano che va, insomma, va ad andare a finire su Born in the USA, tra l'altro nel libro Springsteen dice che ha un po' il rammarico di non averla incisa anche nella versione acustica, insomma, in modo da avere le due versioni, ma, insomma, la versione di Born in the USA diventerà totalmente un'altra cosa. Cosa stavo dicendo? Stiamo facendo riferimento a Born in the USA, che fa parte, diciamo, anche di quel versante del racconto, diciamo, degli interessi anche, se vogliamo, socioculturale anche di Bruce Springsteen. Certo, un po' l'America è dei diseredati che in qualche modo ritorna con Reagan, anche se, nonostante la, come si può dire, la propaganda Reaganiana, l'idea di quest'America che torna di nuovo in cima, vabbè, poi è un'idea che anche Trump, we make America great again, è tornata di nuovo nel tempo, e poi il motivo per cui, come molti sanno, la canzone di Springsteen è stata sempre utilizzata come una specie di inno all'America, mentre in realtà è tutto l'opposto, o meglio, è l'inno dell'America, dei diseredati, dei dimenticati, degli outsider, in qualche modo, quindi non c'entra nulla con la celebrazione del sogno americano, ecco. Alessandro, ti volevo portare invece su un elemento che, insomma, credo sia uno degli elementi cruciali anche di questo disco, perché il disco viene registrato in una casa in affitto nel New Jersey, no, è Colts Week, con questa, diciamo, con questa pavimentazione arancione, se vogliamo, no, un posto molto... Mochetta arancione. Una mochetta arancione, diciamo, questo posto davvero molto, molto, diciamo, umile, se vogliamo, per usare un termine retorico, con una tecnologia che, insomma, è tutt'altro che professionale, se vogliamo, rispetto anche a quello che già aveva fatto, diciamo, anche semplicemente nei dischi precedenti, Bruce Springsteen. Parte, registra questo disco, lo tiene in tasca per mesi, e poi, insomma, quasi con insofferenza lo cede, diciamo, all'Indao per provare a farne qualche cosa. Ma lui, insomma, in realtà se lo terrebbe in tasca per sempre. Quell'audiocassetta se la terrebbe in tasca per sempre, no? Sì, perché, vabbè, innanzitutto viene fuori, ma come tutti i fan di Springsteen sapranno, il fatto che Springsteen è una persona di una meticolosità, non un'indecisione, ma deve soppesare fino all'ultimo, non è mai convinto di come vengono fuori i pezzi di stamese in studio, eccetera, eccetera. E in questo caso, appunto, come dicevi, in realtà lui compra questo registratore della Teac, quattro piste, che in realtà non è esattamente una roba che trovi dalle rigattiere, perché in quel momento è una specie di prodotto a metà strada tra il dilettantesco e il professionale, perché in realtà non costa così poco, però gli serve qualcosa che gli consenta di registrarsi da solo in casa con l'aiuto del tecnico del suono che comunque gli setta le cose e tutto quanto. Il punto è però che lui non sta pensando di farne un album così com'è, però lui va in studio, si accorge che quei pezzi perdono qualcosa nel momento in cui cerca di trasformarli in pezzi più classici e quindi cosa succede? Tra l'altro per peggiorare la situazione lui inserisce un effetto di riverbero direttamente sui master, nel senso che così ci si ritrova con questa cassetta a cui non si può modificare più in nessun modo e i pezzi vanno, ad un certo punto si decide di pubblicarli così. A quel punto ci sarà un altro problema perché c'è una specie di odissea nel tentativo di masterizzare il disco direttamente dal nastro, faranno il giro di tutti i più grandi masterizzatori, non so chi si occupa di masterizzazione definitiva dei dischi e ovunque ci saranno dei problemi tecnici, alla fine riusciranno a trovare una quadra ma registrando il disco, masterizzando il disco a volume basso per evitare le distorsioni e questo in fondo deriva un po' da questo anche il fascino del disco che tutto sommato è un disco che uno va ascoltato, è stato masterizzato a basso volume ma anche il basso volume è una delle modalità in cui questo disco si può ascoltare perché comunque ti entra nelle orecchie. Infatti, diciamo che di cose, di recensioni, se ne sono già scritte tante, ne sono uscite rispetto a questo libro e insomma è anche su Nebrasca, poi da sempre, insomma si parla di apologia dell'imperfezione, così come per esempio tra le mille informazioni e curiosità che ci sono dentro questo libro c'è un elemento, adesso non abbiamo il tempo per approfondire, ma insomma vi suggerirei di leggere il libro perché per esempio io voglio dire viene fuori una inedita passione per esempio di Springsteen per il suicide, di questo magari parleremo magari un'altra volta, però per esempio voglio come traduttore, diciamo a parte vorrei chiederti se questo lavoro su questo libro è stato un lavoro agevole o più complicato del solito, ma per esempio Warren Zanes, per esempio la pagina 271, parla di scrittura in sé, come continua ad essere la scrittura il processo di immaginazione di una sola persona che guarda da una finestra qualcosa che non c'è, si tratta di una forma colta di illusionismo, mi verrebbe da chiederti invece per te la traduzione invece, che cos'è a questo punto? Come la definisci? Ah, questa è una bella domanda, tra l'altro io non sono, cioè ci sono traduttori ben più blasonati di me, io alla fine sono un traduttore part time perché faccio anche altre cose e a volte mi sembra anche di essere un po' un intruso, però insomma tutti quanti i feedback sono buoni e quindi io procedo. Diciamo che ogni libro fa storia a sé, anche i libri che apparentemente sono scritti in un inglese molto semplice, in un americano, cioè direi americano perché mi è spesso capitato di tradurre libri di autori americani che sono sempre in inglese, ma a volte l'americano ha qualche sfumatura un po' diversa, anche i più semplici poi si, come si può dire, si rivelano essere non così facili da tradurre, ad esempio un po' l'inglese, l'americano di Springsteen ma anche di Landau di cui ci sono varie strati interviste perché Zenz ha avuto l'occasione di intervistare direttamente Springsteen che ha voluto, Springsteen è un personaggio molto, che non è così facile da raggiungere per intervistarlo, ma insomma finalmente ha voluto parlare di Nebraska quindi ci sono interviste di prima mano, diciamo l'americano parlato a volte è un po' difficile da rendere perché è un po' impreciso, i tempi verbali fluttuano, cioè i tempi non concordano sempre in maniera perfetta quindi da quel punto di vista erano stati degli elementi un po' difficili da, per il resto in realtà Zenz ha uno stile molto fluido, insomma alla fine ha un suo ritmo e quindi non è difficile da rendere, diciamo che a volte uno si impantana nelle, una delle cose interessanti è stato affascinante e che in questo libro poi ci sono anche del tipo gli appunti, questa cassetta di Springsteen da Alan Dow, la cassetta con un foglietto che viene riprodotto in maniera come si dice, integrale con tutti gli errori di ortografia perché insomma Springsteen scrive un po' in fretta le note sulle canzoni, le indicazioni che spiegano come vorrebbe poi inciderla e via dicendo. Diciamo che è sempre un, non è quasi mai fa, cioè è gratificante alla fine ma c'è sempre qualche motivo che ti complica la vita ma è anche un po' il motivo che ti stimola, ti fa andare avanti, insomma la traduzione secondo me è una specie di percorso in cui devi trovare delle soluzioni per uscirne perché poi alla fine sai che dopo tre mesi devi consegnare la traduzione quindi devi metterli lì, sudare, c'è molta traspirazione come mi sono fuori di discorso di ispirazione e traspirazione ovviamente ho a che fare con della roba che non ho, delle parole che non ho scritto io quindi da un certo punto c'è anche una cautela, uno dice voglio fare il possibile per mantenere, di essere il più fedele possibile alla scrittura originale, all'autore originale, tra l'altro Zayns ha anche uno stile non solo cronachistico ma anche a volte anche dei momenti letterari, poetici nel modo di descrivere le cose quindi insomma è stato impegnativo ma alla fine spero sia venuto bene. Allora è venuto benissimo è molto coinvolgente, ci piace anche come sempre mettere in connessione altri libri perché in un libro che abbiamo presentato anche con l'autore cioè Paolo Cognetti giù nella valle Perinaudi insomma in questo libro in una nota dell'autore Cognetti parla di Nebraska come del disco diciamo che ha ascoltato più nella vita e che insomma gli ha permesso anche di costruire la trama poi di questo libro che è ambientato in Valsessia insomma alla fine dice Cognetti che alla fine la Valsessia è il suo Nebraska se vogliamo per cui anche questo è un libro che torniamo a suggerire intanto avremmo voluto chiederti un milione di altre cose avrei voluto avremmo voluto ascoltare ancora altri brani ma non ce la facciamo perché siamo praticamente in coda voglio soltanto dirvi che rispetto al riferimento che facevo a rumore è che per esempio per i quarant'anni per i trent'anni dalla scomparsa di Kurt Cobain è stato dedicato un numero con in copertina Kurt Cobain per esempio che abbiamo sfogliato insieme i cui contenuti abbiamo condiviso insieme qualche tempo fa così come il numero dedicato agli Yard Act oppure l'ultimo che è in edicola negazione lo spirito continuo questo è il numero di maggio che trovate ancora in edicola rumore di cui Alessandro Besselvaverame è coordinatore di redazione Alessandro io ti ringrazio moltissimo per essere stato con noi ad almeno due pagine al giorno spero sia stato un buon tempo anche per te speriamo di incrociarci il prima possibile anche con un altro genere di racconti magari proprio anche sulla rivista grazie ancora Alessandro grazie a tutti grazie a tutti